Ripper è la piattaforma ideale per la produzione di podcast o comunque di trasmissioni radiofoniche pre-registrate. Vediamo insieme il perché e come utilizzare le sue caratteristiche che la rendono in questo momento l'unica legalmente adatta per questo scopo. Dalla versione 6.10 Ripper permette di esportare i markers mid-stream mid-roll in diversi formati, tra cui FLAC, OGG ed MP3. I tags mid-stream inseriti con dei markers sono inizializzati con la dicitura CHAP uguale. Con uno script da me fatto riuscirete ad inserirli a prova d'errore. Inizialmente introdotti da BBC diversi anni fa durante la definizione dello standard ID3V2 per l'identificazione del titolo dei capitoli negli audiolibri, su cui vi sarà un apposito tutorial, l'uso appropriato di questo tag permette di creare ciò che si chiama enhanced podcast, cioè un podcast esteso. Tutti i lettori di audiolibri e di sistemi di automazione radio evoluti, ovviamente i sistemi usati da BBC, Audible, Ophonic, eccetera, sono in grado di leggere i tag mid-stream e quindi mostrare al lettore e ascoltatore il titolo del capitolo che segue il tag CHAP uguale. Anche lettori clients sono in grado quali Instacast, Overcast, Downcast, ma qui ci interessano i broadcasters e le automazioni radio. Ad esempio, prefazione viene scritto CHAP uguale prefazione in un marker e quando letto dal sistema radio di lettura audiolibro viene mostrato prefazione. Estendendo l'uso dei markers CHAP uguale, che sono normalissimi markers a cui viene dato questo nome ed automaticamente riconosciuti da Reaper come puntatori ai capitoli, è possibile inserire nei podcast per ogni canzone i dati di legge richiesti, performer, titolo ed in Italia anche anno di produzione ed etichetta. Viene inoltre inserita la durata in secondi, ossia per quanti secondi la canzone è andata in onda. In una regione che è delimitata da due markers, il tutto con un solo clic. Viene anche prodotto un file sidecar in formato TXT con lo stesso nome del progetto che deve in assoluto essere inviato alle radio insieme all'MP3 della trasmissione. Questo file serve ad alcune regie che non hanno ancora implementato i Midstream Tag Embedded, come MB Studio, lo vedremo tra poco, ma che permettono il corretto uso dei dati per il report di legge. I sistemi di automazione radiofonica ridigono questo tipo di report da inviare alle Collecting Societies, in Italia la CIA, in Belgio Sabam, in Francia Sassem, in Germania Gema, eccetera. Per farla breve, rende legali i podcast che contengono musica propria e permette alle emittenti la corretta dichiarazione con i dati richiesti. In Italia infatti questi campi sono obbligatori, come si vede dall'articolo 23 del Decreto Legge 35 del 15 marzo 2017, che si rifà alla direttiva europea recepita da tutti gli Stati membri 2014-26 UE. Le emittenti che non ottemperano a ciò rischiano multe dai 20.000 ai 100.000 euro, come vedesi dall'articolo 41 al secondo comma, in violazione dell'articolo 23. Pertanto, se una trasmissione non permette loro di rispettare questa legge, hanno il diritto di rifiutarla, come anche il non adottare volontariamente le soluzioni tecniche attuali che permettono di dichiarare correttamente i brani musicali utilizzati, le espone allo stesso rischio. Pertanto dovranno adeguarsi via via. In Belgio, la regolamentazione implementata da Sabam prevede sanzioni diverse. C'è una sanzione di 350 euro al giorno di ritardo di correzione per i dati inesatti sulla dichiarazione. La correzione deve avvenire entro un tempo specificato, che è in funzione del contratto di licenza radiofonica. Ciascun paese, quindi, applica la direttiva europea con metodi sanzionari civili o penali che sono in base al proprio ordinamento. Torniamo a Reaper. Per utilizzare questa feature basta installare uno script che ho creato apposta. Per farlo è semplicissimo, è sufficiente installare la mia libreria Reapac. Trovate qui in alto e sotto in descrizione il FlashTorial che vi dice come fare ed il link diretto al mio GitHub, dove trovate il tutto. Fatto ciò, installate lo script apposito per i podcast. Poi potete assegnarlo a menu o a pulsanti. Qui in alto ed in descrizione il FlashTorial nel caso in cui non lo sappiate ancora fare. Ho qui un progetto aperto con un podcast di esempio su cui vi guiderò. Se vi piace il mio template per i podcast, lo trovate qui sotto in descrizione. Sono compresi i plugins ed il routing per il docking automatico. Quando si parla, automaticamente si abbassa la musica. Ci sono diverse tracce dedicate a varie sorgenti, tra cui microfoni in studio, eventuali sorgenti Bluetooth, sorgenti temporanee esterne, tipo un iPod o un qualsiasi dispositivo, e poi tracce dei files in uso. Loops e jingles, songs per le canzoni. Backtrack, che è l'eventuale musica di sottofondo, genere di libero uso e non coperta da copyright. La traccia che interessa questo tutorial è songs, canzoni. Ascoltiamo questi pochi secondi di simulazione. Podcast example. The speaker is talking now. Podcast example. The speaker is talking now. volcano and Il montaggio dell'intera trasmissione è terminato. Il podcast è ora da esportare, ma prima di farlo, bisogna inserire i dati di ciascuna canzone. Per precauzione, si salvi il progetto attraverso Ctrl S o File Save. Attivate lo script tramite il tasto destro del mouse in modo da armare l'action, come spiegato nel FlashTorial qui sopra, e tenere il tutto attivo. Il cursore del mouse si trasforma ed una A, che sta per Armed, viene aggiunta. Ogni volta che cliccate sull'item di una canzone, si apre questa finestrella dove vi sono due campi obbligatori, titolo della canzone e performer, e due campi facoltativi, in Italia non lo sono, ossia anno di produzione della release ed etichetta o etichette separate da virgole. Si apre anche una finestra con le istruzioni, un promemoria con dei links utili. Se si omettono i campi obbligatori, un pop-up si apre che vi dice dove avete sbagliato. Quindi inserite i dati corretti. Titolo e performer sono obbligatori. L'anno di produzione o le etichette, come detto, sono opzionali. E cliccate su OK. Viene automaticamente creata una regione, che contiene tutti i dati necessari, subito dopo il tag chat uguale, separati dal carattere pipe, la barretta verticale. L'ordine dei dati è il seguente. Offset, che indica a quanti secondi dall'inizio del file la canzone inizia. Titolo della canzone. Performer. L'anno di produzione. Se non è presente viene indicato con NA, cioè not applicable. La o le etichette, separate da una virgola. Anche in questo caso, se omesse, viene indicato NA. E la durata in secondi, calcolata automaticamente dallo script della canzone. Procedete nello stesso modo con tutte le canzoni presenti nella trasmissione. In caso di correzione del testo o di risistemazione della posizione della canzone, è sufficiente effettuare le modifiche, cliccare sull'item e dare OK. Automaticamente i dati vengono aggiornati anche sul sidecar. Nella cartella di progetto viene creato il file sidecar, un file .txt dallo stesso nome del progetto, aprendo il quale trovate sia le righe inerenti le canzoni che, oltre a essere mostrate all'ascoltatore quando il pezzo va in onda, verranno poi scritte nel report finale per le Collecting Societies. Come detto, si ha E in Italia, Sabam in Belgio, Sassem in Francia, Game in Germania e così via. Ed altre righe che invece verranno mostrate soltanto all'ascoltatore, ossia il titolo della trasmissione e di conduttori. Quando una canzone finisce in coincidenza del termine della trasmissione, a 5 secondi dalla fine di quest'ultima, viene scritto il rigo del termine con la dicitura pipe, the end, maggiore d, dopo il nome del conduttore. Esportate ora il podcast in mp3 tramite File, Rendering, abilitate i metadati. I markers con la tag chap uguale e le loro regioni sono automaticamente inclusi nell'mp3 dal momento in cui sono presenti. Ad ogni modo, nel template che vi fornisco, tutti questi settings sono già impostati. Fatto ciò, se volete, potete verificare nella presenza, creando un progetto nuovo, in una nuova tab, importando l'mp3 e sono qui, come vedete. Volendo riportarli sulla timeline, basta attivare lo script apposito Import Item Media Queues as Project Markers. Et voilà. L'mp3 generato deve avere lo stesso nome del progetto e quindi lo stesso nome del file sidecar. Se cambiate il nome ad uno, dovete necessariamente cambiarlo anche all'altro. Inviate il tutto all'emittente o alle emittenti. È una condizione dispensabile al momento per la compatibilità con MB Studio, con la cui software as ho collaborato per la definizione di questo standard in modo che sia di facile uso per tutti e non comporti alcun extra training per gli operatori radio, rendendo a norma di legge i podcast prodotti e sgravando gli emittenti da possibili difficoltà con gli enti preposti. Special Audio, produttrice di Sun Broadcaster, come anche Centova ed altri minori, al momento di questo video non leggono i midstream tags embedded nell'mp3 e nemmeno il sidecar. Pertanto le emittenti che lo usano debbono porre attenzione all'aspetto legale, almeno fino a che Special Audio, Centova, eccetera, introdurranno questa feature. La trasmissione di podcast o comunque trasmissioni pre-registrate può costare loro davvero caro. Vediamo ora cosa accade dalla parte delle emittenti che utilizzano MB o software compatibile. Qui ho una sessione di MB Studio, la versione demo. Non ho quindi il generatore di report ma posso verificare tutto dai files di log che sono testuali. L'emittente importa l'mp3 della trasmissione. MB Studio assicura di importare anche il file sidecar se presente. Future versioni magari leggeranno direttamente i tags dall'mp3, ma al momento funziona con il sidecar. Ecco cosa succede andando in play. Podcast example. The speaker is talking now. 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 L'utente sul suo RDS visualizza titolo della trasmissione e conduttore, titolo della canzone ed interprete. Cinque secondi prima del termine ritornano titolo della trasmissione e conduttore, segno pipe, the end e maggiore di che indica segue. La cosa più importante però è il report per le collecting societies. Qui vi mostro il CSV che la versione demo produce. Nella versione a pagamento c'è un'utility apposita che permette di creare un report ufficiale intestato da consegnare a CI piuttosto che Sabam eccetera. Vedete i nomi dei tre brani utilizzati, la data di messa in onda, la durata di messa in onda, le labels. Ricapitolando. Quando il podcast o la trasmissione pre-registrata è terminata, quindi terminato il montaggio, aggiungete i dati delle singole canzoni utilizzate tramite il mio script. Il file sidecar, che ha lo stesso nome del progetto e quindi del file renderizzato, si forma nella cartella di progetto. Il file mp3 contenente i dati embedded ed il file sidecar possono essere inglobati in uno zip ed inviati all'emittente. Il resto lo fa il sistema d'automazione radiofonica che produrrà un report conforme alle norme di legge e l'emittente non sarà più sanzionabile. Al momento è tutto. Spero vi sia stato utile. Grazie per la visione.